Siamo in formato, c'è un treno che parte alle 7.40 Non hai molto tempo, il trappico e il letto nell'ora ti punta Mi bastano 10 minuti per giungere a casa la nostra Ma già mi ricorda che sempre lì, lì sulla finestra Deve farne valigie, ricordati di non scordare Qualche cosa di tuo che a te ti faccia pensare Ora basta non stare qui e direi con tu e tu Che soffriamo di più, ogni istante che passa di più Il respetulo e il respetulo Il respetulo e il respetulo Il respetulo Tutti vogliono questa voce unica nel proprio club ma solo un coach verrà scelto Fra poco scopriremo chi